Da Fiorensuola a Gerusalemme passando per il Pakistan. La curiosità di vivere a contatto con le altre culture è una prerogativa del mestiere di fotografo. Quella di vivere stabilmente all'estero per Marco Bottelli, classe 1978, è arrivata nel 2009. Dopo varie esperienze con le ONG, filtrando il mondo attraverso un obiettivo, il fiorensuolano si è trasferito in Pakistan. Sono partito per il Pakistan perché avevo un amico qua, pakistano, che mi ha offerto l'ospitalità in un piccolo villaggio pakistano vicino a Faislabad. E quindi diciamo che il primo periodo che ho vissuto in Pakistan, ho vissuto proprio in questo villaggio in mezzo ai pakistani. È stata sicuramente un'esperienza molto particolare, molto forte. È proprio in Pakistan che ha conosciuto la compagna con la quale si è trasferito da un anno insieme alla loro figlia a Gerusalemme, affascinante città dalla storia millenaria, intreccio di culture, religioni e spesso teatro di conflitti. Ho avuto la fortuna di conoscere alcuni italiani fotografi che fanno il mio stesso mestiere, che comunque mi hanno un attimino introdotto nel contesto. E poi ho cominciato fin da subito a condividere con loro certe esperienze legate principalmente alle news, e ai fatti che capitano in questa città dove effettivamente sempre qualcosa succede. Cosa che manca di più dell'Italia e in particolare della terra d'origine? Sicuramente sembra banale, però il cibo mi manca tanto, anche se poi mi piace anche sperimentare. Sicuramente manca il senso della cultura e tante cose belle che noi abbiamo come patrimonio, a cui io sono molto legato perché sono appassionato. Quella di Marco Bottelli è la storia di tanti ragazzi piacentini che hanno deciso di vivere per un periodo di tempo o di trasferirsi stabilmente all'estero. A loro è dedicata la trasmissione Yes Piacenza, in onda prossimamente su Telelibertà.